La tragedia registrata ieri sulla Marmolada è soprattutto figlia dei cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale ha reso pericolose zone che fino a 20-30 anni fa erano sicure. Una situazione che preoccupa gli esperti per un fenomeno, quello dello scioglimento dei ghiacciai, che negli ultimi anni ha accelerato di molto il suo processo. Numerosi gli studi che hanno evidenziato l'impatto catastrofico del riscaldamento globale sui ghiacciai, moltissimi dei quali destinati a sparire nel giro di pochi decenni dopo millenni di persistenza. Ma analoghe e drammatiche stime riguardano anche altri ghiacciai, in particolar modo quelli continentali, come evidenziato da un recente studio coordinato da scienziati dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. All'ex ghiacciaio del Calderone sul Gran Sasso, a circa 2.800 metri d'altezza, restano solo 25 metri di ghiaccio prima della definitiva scomparsa. Questo dei ghiacciai purtroppo è la manifestazione evidente e tragica di un cambiamento in atto, per certi versi anche irreversibile, che chiaramente non riguarda solo l'aspetto dei ghiacciai, è un aspetto molto più ampio che riguarda l'agricoltura, riguarda le risorse id, che riguarderà il nostro modo di vivere nei prossimi anni. E proprio per tenere accesi i riflettori su questa problematica, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile da alcuni anni organizza l'evento Scaliamo per il Clima, pensato per sensibilizzare l'opinione pubblica, locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici. Sono diversi anni che organizziamo attività di sensibilizzazione. L'anno scorso è stato fatto proprio un evento nazionale del Climbing for Climate, Scaliamo per il Clima sul ghiacciaio del Calderone, che ormai non è più un ghiacciaio, è un ex-ghiacciaio, e quest'anno si ripeterà sul Monte Bianco, in Valle d'Aosta. Quindi tutte le università italiane con i rettori si incontreranno, proprio per lanciare, se possibile ulteriormente, anche se gli eventi tragici di ieri dimostrano che forse non c'è neanche più proprio bisogno di lanciare l'allarme, proprio per segnalare questa urgenza di intervenire per mitigare e per confrontarci con i cambiamenti climatici.